Ludovica Valli, la festa di compleanno la piccola Anastasia, presenti i Vallini. Compleanno Pink per la piccola Anastasia. La famiglia Valli si è riunita per festeggiare la primogenita di Ludovica. Ex-tronista di uomini e donne, che ha compiuto due anni. La famiglia Vallini, insieme al resto di cugini e zii si sono riuniti a Milano dove Ludovica ha organizzato una grande festa per la sua primogenita a Milano. Nuk Tutel Pink. Torte, palloncini, festone, ovviamente, storie su storie che immortalano tutti i presenti. Immancabile, tutta la famiglia di Beatrice Valli e Marco Fantini, insieme ai piccoli Allè, azzurra e bianca. Selvaggia Lucarelli, la frecciatina Elari Blasi e Francesco Totti, solo una cosa continuerà ad accomunarli. Barbara D'Urso, fuga da teatro, devo scappare ecco cos'è successo. Due anni fa a quest'ora eri già tra le mie braccia, stretta stretta forte a me. Buon compleanno vita mia scriveva due giorni fa a Ludovica festeggiando con un post dolcissimo la sua piccola Anastasia. Una dedica lunga e dolcissima per la sua primogenita, a cui da poco ha regalato il fratello, Otto. Sono entrata in ospedale il 6 marzo ma tu hai scelto di venire al mondo l'8 marzo. Ricordo ancora oggi ogni singolo istante di quei giorni, ogni singola emozione. Ricordo ancora gli occhi del tuo papà quando gli hanno detto ci siamo, sta per nascere, non avevo mai visto prima quella luce nei suoi occhi. Ricordo ancora il tuo sguardo quando ho incontrato il mio per la prima volta. Ricordo ancora il profumo della tua pelle. Punto quello che tuttora e ogni volta che ti bacio tu sei l'amore, tu sei la dolcezza. Tu sei la felicità fatta in persona. Ti auguro di essere sempre felice e così curiosa di scoprire la vita come oggi, amore mio. Grapperul din toto, toți MC-i cu care am crescut, pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, da vestu. Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiții, dragonul maxi, gespe, chimie, rimaru, spike, buia, si, swapo, grasul nimeni altu, delvede sau carpo. Tre' să vă mănânci vers cu vers card intens, tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, de zici că mă bar cu boss-ul. La câte urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.